La Notte Bianca dei Musei e la riscoperta dei capolavori della Cattedrale di San Cetteo hanno chiuso la seconda giornata del Festival d'Annunziano, dedicata allo sport, all'arte e alla musica. Dal tramonto fino alla mezzanotte le collezioni esposte in sé ai musei di Pescara nella Casa Natale di D'Annunzio sono state visibili gratuitamente al pubblico. Migliaia di accessi registrati con un flusso costante di visitatori appassionati e curiosi che hanno apprezzato le meraviglie del patrimonio museale pescarese e goduto delle spiegazioni di guide d'eccezione. Una per tutte Rosanna Pallotta che insieme al marito Venceslao Di Persio ha dato vita al modernissimo Museo dell'Ottocento. Porte aperte anche al Museo Paparella con la splendida collezione di De Chirico, all'Imago Museum, al Museo delle Genti, al Cascella e al Media Museum. Sul corso Mantonè grande vitalità per pubblico e proposta culturale a Casa D'Annunzio dove l'attrice Franca Minucci ha animato un resita al diversi d'Annunziani. Questa casa secondo me conserva questo genio, che si conserva questo alito della sua vita, della sua anima. perché se è vero come è vero che le persone e gli uomini si formano nei primi anni di vita, beh, nei primi anni di vita D'Annunzio è stato qui. Qui è nato, qui è vissuto da ragazzo, da giovane, da adolescente, per cui insomma io sono molto felice di poterlo raccontare in questa sua prima fase della vita che è anche quella dove ha immagazzinato tutto quel mondo e quella conoscenza della terra, delle tradizioni, della cultura. Lo storico dell'arte Luigi Cicchetti, insieme al direttore del festival Giordano Bruno Guerri, ha coinvolto i visitatori con l'approfondimento storico-artistico sull'opera San Francesco in Adorazione del Guercino, che D'Annunzio donò alla Cattedrale di San Cetteo, dove riposavano le spoglie della madre Luisa. Questo è stato il primo dono di Gabriele D'Annunzio alla nascente Cattedrale di San Cetteo, inaugurata nel 1934, e a sua volta D'Annunzio ha ricevuto in dono nel 1925 questa tela dalla provincia della Venezia Giulia. Opera attribuita a Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, denominato in questo modo per un difetto congenito all'occhio destro. È un capolavoro sicuramente databile dopo la seconda metà del Seicento italiano. Sempre Cattedrale, la mezza soprano Giorgia Pesaresi e la pianista Alessia Mortaloni si sono esibite con lo spettacolo Francesco Paolo Tosti e il salotto D'Annunziano.